Una lunga ed estenuante maratona da ridurre al minimo possibile e ciò significa arrivare per primi o massimo per secondi. E' questa la missione che attende il Palermo di Bruno Tedino, ritrovato sì oggi per il primo allenamento del 2018 in vista della trasferta di La Spezia in programma sabato 20 gennaio. Il tecnico rosanero ha trovato un fiore in più al rientro delle vacanze. Il giovane difensore belga Corentin Fiore è arrivato a Palermo via Standard e Liegi nella serata di ieri. Gli acquisti più importanti per Tedino saranno però senza dubbio quelli di Andrea Rispoli che sta recuperando in fretta dal risentimento all'aduttore della gamba sinistra sofferto contro la Salernitana. Ma soprattutto quello del capitano bomber Ilia Nestorowski, rientrato proprio contro i campani ma determinato a riprendersi il Palermo e la Serie A. Questa seconda parte di 2017 è stata positiva per noi perché siamo alti a classifica e vogliamo andare a Serie A. Così è positivo o meno positivo perché stanno stati fuori 4-5 partiti. Per me questo non è positivo ma è positivo perché già raggiungo 10 gol. Ora sto bene, Fortunio è dentro le mie spalle, è brutto vedere i campani come giocano, come fanno tutto per vincere, tu sei a tribuna, questo non è bene. È normale che sei capitano di una squadra che senti più responsabilità e per me non c'è nessun problema che prendo questa responsabilità e voglio tornare a Palermo dove meriti. Voglio stare bene e voglio andare a Serie A con Palermo. Grazie.